Nei primi giorni dell'anno abbiamo avuto un incontro storico, oserei definire, perché praticamente tutte le associazioni di categoria unite, assieme alle tre sindacali, CGL e Cisleville, veramente per la prima volta nella storia, hanno portato all'attenzione dell'assessore Lolli dieci punti fondamentali per il rilancio della piccola e media impresa. Questi punti toccati sono chiaramente la bottega a scuola, i cat, artigianato artistico e soprattutto un punto fondamentale è l'accesso al credito. Chiaramente la piccola e media impresa è quella che ha difficoltà maggiore a dialogare con gli istituti di credito ma soprattutto perché negli ultimi anni c'è stata una flessione di circa l'8% di accesso al credito da parte delle imprese. Le imprese chiaramente stanno morendo e chiediamo alla regione un sostegno in tal senso assolutamente. Abbiamo di comune accordo appunto con l'assessore fissato questi punti e li abbiamo anche condivisi con lui quindi questa volta ci sono state delle promesse ben precise che entro fine mese comunque si sbloccavano dei fondi e non possiamo assolutamente più attendere. Sono troppi anni che appunto facciamo dei tavoli, dialoghiamo ma ora è arrivato il momento di fare qualcosa perché le imprese continuano a morire e non possiamo assolutamente più aspettare quindi aspettiamo veramente solo, solo veramente qualche giorno e poi ci sarà lo stato di agitazione di tutta la categoria. Grazie a tutti.